La cosa più importante di questo mercato, poi grazie anche alla proprietà, al Presidente che mi ha dato forza a tenere avanti e portare avanti la mia idea, il mio progetto, mi è stato anche più semplice, poi ho parlato anche con i ragazzi, anche i ragazzi hanno questa grande voglia e volontà di poter sognare, quindi in questo momento siamo nella fase di sognare. Prima che il mercato prendesse la piega più forte, nel momento più caldo, avevo già parlato prima, avevo già fatto capire sia gli agenti che i stessi calciatori che avevo l'intenzione di tenerli perché volevo fare cose importanti. Loro non sono stati mai convintissimi di andare via, avevano tutti questa grande aspirazione di andare in una categoria superiore, però sono convinti che ci vanno uguali, quindi una è stata abbastanza vicina e consistente nella richiesta, però alla fine ne siamo usciti di vincitori. Innanzitutto a Maxi faccio un grande in bocca al lupo e spero che recuperi nel più presto, nel tempo possibile e nel miglior modo possibile, questo è un aspetto, poi questa è una situazione che fondamentalmente nessuno si aspettava, neanche io me l'aspettavo, sono stato spiazzato, siamo stati costretti contro voglia di metterlo fuori lista. Poi quando tornerà in questa squadra ha una caratteristica che hanno giocato tutti e hanno avuto tutti lo spazio che si sono ritagliati per il loro merito, se c'è anche lo spazio per Farelli, per quando ritornerà Benassi, se ci saranno le condizioni, le cavalchiamo. Innanzitutto voglio ringraziare i tifosi perché domenica mi sono emozionato, vedere quella curva, il pubblico e quello striscione mi ha fatto enormemente piacere, anche se mi dicono che sono un po' orso, però sinceramente li voglio ringraziare e colgo e ringrazio e coltivo quello striscione e poi vediamo dove possiamo arrivare, però il meglio secondo me deve ancora arrivare.